Buongiorno a tutti gli ospiti di questa domenica pomeriggio, le loro canzoni sono tanti suono, lo si è scordato e con il messo piacere ti ripresento... I PADERS! Grazie a tutti, grazie a voi per essere qui questo pomeriggio alla studio azienda ed è una cosa che diceva Belli, l'ultimo è sempre una più bella, ci sono la prima, c'è voi l'ultimo, ma non vedete però comunque noi che siamo stati qua per la prima volta un anno perso fatto, è sempre un anno, è sempre un'emozione vedervi, è un'emozione, il corpo, il vostro, che si guarda Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti Mamma mia frate, vai, io lo vedo! Siete grati? Buongiorno! Io non so come mai, avrò un occhio che vedo te quella luce che mi hai, sarà il sorriso che mi fai guarda qui, vicino a te, sai che voglio solo a te quando sento che ci sei, non dico la vita più che mai si vuole un emozione, ma non so che ci vuole è un'esplosione, che non ti da ragione il tuo sorriso infelta il suo viso accendo il bordo, che ti ti mette il gioco è un emozione, un sport che ti move è un'esplosione, che non mi da ragione il tuo sorriso infelta il suo viso accendo il bordo, che ti mette il gioco Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!